Domani mattina le scuole sono tutte aperte, di tutti gli ordini e i gradi, in generale tutte le attività della città sono aperte. Non ci sono casi riscontrati nella nostra città neanche nella regione, quindi invitiamo tutti alla calma, le autorità sanitarie stanno facendo un ottimo lavoro e domani alle 5 avremo un incontro in prefettura per fare il punto col prefetto e tutte le autorità competenti. Quindi invito tutti a mantenere la calma perché il rischio è che il panico faccia più danni del virus, nessuno sta sottovalutando nulla, tutto è sotto controllo e osservazione, ovviamente speriamo che non ci siano casi anche da noi, sappiamo che potrebbe essere possibile, però ad oggi non ci sono e quindi al momento tutto è confermato, tutto aperto e tutto confermato appunto come sempre. Quindi domani faremo un aggiornamento dopo la riunione delle 5 e di conseguenza decideremo che fare, però al momento tutto è tranquillo e andiamo avanti con tranquillità.